allora la cosa incredibile io non lo sarei mai mai e poi mai aspettato ero straconvinto che la partita oggi appena iniziava la partita io faceva 1 2 3 4 gol e se li mandava a casa invece successo il contrario c'è l'opposto che il city dopo i primi tre minuti che la partita pressando quindi partita subito aggressiva subito per far capire che ha più forte dopo quei tre minuti si è un po addormentata cioè ha iniziato un po a giochicchiare quindi faceva i palleggini tic tac tic tac tic tac però non arriva mai in porta a tirare ci è arrivata una volta solo nel primo tempo mentre invece il Chelsea ha avuto quelle tre quattro occasioni due importantissime occasioni dove il proprio attaccante ha fallito miseramente specie la prima ha fallito in una maniera misera quell'occasione che li poteva già portare in vantaggio e quindi niente poi a fine primo tempo il Chelsea va in vantaggio merita da mente nonostante il city tenesse un po il palino del gioco in mano quindi c'è molto più la palla rispetto al Chelsea il city però quel tipo di possesso un po sterile che non comporta nulla diciamo quindi il Chelsea a fine primo tempo va in vantaggio merita da mente il secondo tempo è un po la brutta copia la bella copia del primo diremmo la bella copia perché il city ha un po il palino del gioco in mano e il Chelsea invece gioca di rimessa tentando di far di far male come nel primo tempo il city si è visto soltanto all'ultimi tre minuti di partita con quel tiro finito sopra la traversa realmente di pochissimo io lì pensavo che la vareggiasse invece non è riuscito io sono rimasto proprio colpito da questa partita perché non me l'aspettavo assolutamente che il Chelsea riuscisse a vincere ma alla fine ha vinto quindi si è portato a casa sta terza coppa dei campioni il manager city con suo allenatore guardiola ha fallito miseramente ha fallito sia come mentalità oggi che è entrata in campo con una mentalità assolutamente non da grande squadra e ha fallito guardiola come allenatore perché quando arriva nelle finali spesso e volentieri non riesce a portarla a casa a meno che non si ritrova la squadra con Iniesta, Xavi e Messi e quando ti ritrovi quei tre giocatori già da soli ti possono fare differenza ma il city ahimè non ha giocatori di quel calibro e si è visto questa sera una squadra che non è una squadra di grandi palleggiatori è un po più una squadra abbastanza meccanica e il Chelsea ha meritato nonostante il Chelsea sia una squadra a premio molto molto meno forte una squadra non di rango come il city almeno quest'anno che comunque nella Premier League come avete visto tutti vi ha dato 20 punti di scarto il city e quei 20 punti di scarto pesano e pesavano anche sulla mole di gioco che presentavano le due squadre quindi io non c'è quest'anno non lo sarei mai immaginato che in una finale coppa campioni tra Manchester City e Chelsea andava a vincere il Chelsea comunque Chelsea alla fine ha meritato, nulla da dire, peccato per il city, peccato per Guardiola che le finali non riesce a vincere quasi mai però è risultato giusto quello che si è visto sul campo è stato un Chelsea molto più concreto molto più tenace di quelle poche occasioni la sapete sfruttare e il city che non è riuscito a creare nonostante la mole di gioco e il possesso base non è riuscito a realmente a creare pericoli importanti alla porta del Chelsea quindi il risultato più che giusto è complimenti al Chelsea per questa terza coppa dei campioni grande sorpresa non me lo sarei mai immaginato tutto qua ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti